accendi life and living siediti sul pavimento vediamo se un po che c'è sta coltivazione no cucina perfetto va bene finito sì apposto dai e allora si sta finendo di mettere a posto sta roba vediamo un po si riviste vanno qua ok mamma mia meno male che abbiamo trovato quella cacchio di rivista guarda perfetto questo poi lo leggo con calma bottiglia d'acqua qua davvero non c'entra più niente mizzica fa meglio mangiare qualcosa magari oppure lardo salsa di soia qua c'è un casino di roba che in teoria mancò la magna del formaggio intanto oddio di prima mattina però frago frago e latte beviamoci oddio mica mi viene la nausea no ok a posto porco cane allora si questa è da buttare bottiglia d'acqua vedete se adesso c'entra no vabbè sai cosa me ne tengo tre addosso va bene lo stesso ok e questo zaino sta a posto già che ci siamo raccogli queste due cose e smonta sta sedia che sta in mezzo al cavolo non me la fa smontare seriamente ah si no 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 non questo la sedia niente non me fa smontare sta sedia non fa niente questa 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 sì perfetto queste intanto le togliamo che in effetti servono a poco e niente allora mettiamo questo qua smontiamo anche questo e vola è il caso di smontare pure questo massimo ok uh sta piovendo daje 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 bevi riempi bicchiere di plastica a salve no te te metto qua anzi ma che cacchio me ne faccio dei bicchieri no vabbè ma questi ma come servono no vabbè me li tengo lo stesso stile allora mettiamoli qua però a posto e raccogli questa e aggiungi acqua da tazza d'acqua rossa perfetto a posto ma la tazza mettiamo qua dentro ok allora sì questa acqua perfetto tutta salegna poi lo uso per fa magari un un fuoco sai che faccio nel frattempo me lavo con l'acqua che sta qua quasi quasi sì metto tutto per terra qua adesso intanto mangiatelo eh lavamo cotto porco cane ok fammi troppa tutto tutta sta roba va lavata eh sì lava insanguinato eh sì allora casco lava intanto gli stivali magari ok è già finita l'acqua qua beh no che cacchio sa di sa tutta qua ah ma forse mi serve il sapone dovrei capire come funziona questa cosa della lava vabbè si capi allora quindi questo prendi tutto qua prendiamo tutta la roba che sta nei zaini così stiamo a posto ok raccogli tutto vai perfetto finiamo di organizzare dentro qua intanto sta tutto qui ah mo me fa lavà ah però non i vestiti ah no sì invece ok pantaloni da pompiere eh vabbè lava i pantaloni ok ah forse devo aspettare acqua 6 su 10 ah forse devo aspettare che si riempie del tutto può essere ok l'elettricità c'è ancora quindi direi mettiamo ad asciugare la roba eh bagnato e bagnato accendi no uscire così però non è il caso perché se ta mali è finita vabbè lasciamolo fa per adesso poi devo lavar a me stesso ovviamente bottiglia d'acqua no intanto portiamo sta roba di su però c'è un po' di roba che va messa di su come per esempio qua ci metto gli orologi infatti mi ricordo bene ah già che ci so penna rossa ecco qua qua ci disegniamo la casetta però non con la penna rossa aspetta 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 abbiamo una penna nera per la roba normale penna rossa magari la disegno per cose o pericolose o cose che vanno buttate e adesso va più che bene così con la penna nera lo sa eccola qua perfetto questa è casetta nostra a rosewood dai perfetto metti la penna qua e a posto si torniamo di sotto posso sbontare qualcosa qua messa sedia torcia al propano maschera alla saldatura addirittura questo però si può sbontare così com'è e voilà ok fammanta spegne sto coso di sicuro sono asciutti ne auguro no questi ancora no ah sta scendendo va bene va bene va bene lavar il volo questo lavar il casco perfetto posso lavar pure no devo aspettare ok casco da pompiere bagnato ah la devo spegnere prima perfetto indossa e indossa dai aspettiamo due secondi che laviamo tutto così ci rimettiamo tutto quanto direttamente allora manganello bottiglia d'acqua queste andavano di sopra parti elettroniche andavano sempre di sopra quindi sì parti elettroniche le mettiamo qua se ricordo bene esattamente parti elettroniche primo soccorso lo mettiamo qua in bagno antidepressivi antidepressivi per terra però ma no vabbè ma volendo la posso lasciare pure di sotto se no qua ho insieme ai vestiti anzi qua perché ho maschera antigasse nel suolo sì sì perfetto le armi dove le mettevo quelle corpo a corpo qua dentro che qua c'ho quelli da fuoco ne è vero c'ho pure un piccone qua no no pure qua vanno messe manganello ecco qua cintura con l'anno crocifesso fondina ok a posto smontiamo questo smonto più roba possibile così ma aumento la carpenteria e c'ho anche un po' più de spazio questa me la fa smontando problem allora riscendiamo di sotto qua ci piazziamo questo maie sì andiamo a lavare al volo anche questo lava guanti di pelle direi la giacca posso lavar pure guanti di pelle al volo no devo aspettare che si riempia ancora di più ok mangiato il formaggio anzi lime e limone intanto non dovrebbe farci sentire male ovviamente nella vita reale non mangiatevi un lime e un limone in quel modo perché non credo sia un'ottima idea allora aspetta marcio questo si cancella ahiaiaiai stanno andando in decomposizione la cosa è vermi infatti porco giuda devo spostarsi i corpi allora vediamo se mi fa pulì o meglio lavà è giusto i guanti vorrei lavare poi stiamo a posto vorrei controllare se quando l'acqua va su 10 su 10 lì mi fa lavare secondo me è quella la cosa aspettiamo un altro po' niente niente ha smesso le piove eh ovviamente vabbè sti cavolo non fa niente non fa niente non fa niente allora casco da pompiere giacca da pompiere accendi qua c'è altro da smontano di sopra non credo il letto sì perfetto e questo a suo punto posso far così ecco qua e la mettiamo tieniamo in punto cursore ecco qua riaziamo qua no mamma mia questa cosa devo capire come cacchio si fa per ruotare questo oggetto che porco cane posiziona appos metti rollare nell'angolo anzi sai cosa posiziona lo mettiamo qui riteniamo tutto qua magari appos dai che cash non urla non urla non urla allora ah sì devono spegnare qualcosa sempre sempre se ha finito sì ha finito spegni perfetto dosa appos dovrei dovrei iniziare io qua c'ho un casino di roba salsa di soia lardo e burro ovviamente la mangio da sola è tristezza e anche sete la salsa di soia giustamente è salata è tanto tanto salata pomodoro sta roba va bene diciamo qua dentro cibo ah giusto questi magari sì diciamo a cibo siamo messi meglio con sta roba qua che dovrei mangiare prima o poi perché in effetti se no va male magnate bè corsetti gommosi buoni dai allora cartella ok questa roba sta a posto infatti la metteremo qua anzi mettiamo intanto questa qua e questo qua perfetto ora gli zaini anzi per terra mettiamole qua per terra uno ah ma li sommette no aspetta aspetta calma 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 sta sedia non la voglio qua lo metteremo qui anzi qua ok e mo capito come funziona perfetto e gli zaini li posizioniamo qua e qua perfetto legno di scarto lo mettiamo qui dai taglie ok perfetto sta roba ce la teniamo ok abbiamo ufficialmente organizzato tutto credo bottiglia d'acqua però aspetta mettiamone magari teniamocene solo una addosso perché se no diventiamo troppo pesanti o magari un paio va meglio un paio perfetto riempi già che ci sei bevi sto sudando niente sti cacchio di così sono troppo caldi forse per casa non è il caso di di tenerseli addosso mettiamoli qua che poi so che me li devo mettere per uscire ok ora direi di lavare noi stessi un tipo del casco che in effetti dei guanti di pelle anche ok laviamo noi stessi sapone portatelo tutto ok non so se posso lavarmi qua non credo invece si perfetto fonte d'acqua grande bagno deluxe ma sarebbe ah sta roba qua ok eh vabbè no vabbè teniamola stacqua che ha chiuso addiamoci a lavare con l'acqua qua fuori però ovviamente le bottiglie d'acqua le lasciamo qua non voglio usare l'acqua che bevo ma posso no 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 Grazie per la visione!